Musica Amici di Cusano Italia TV Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia Diamo subito la buona serata a Gabriele Rao che ci ricorda quelli che sono i contatti per voi che ci seguite da casa Buonasera a te Fabio, buonasera soprattutto a tutti voi che siete in ascolto Un caso forse mediaticamente meno noto di molti altri, quello che ci apprestiamo ad affrontare Io vi invito comunque a rivolgere domande, a sottoporre ai nostri ospiti tutte le eventuali curiosità e dubbi Vi ricordo quindi i nostri recapiti, potete scrivere al numero 334-9229-505 Sia messaggi normali, sia tramite Whatsapp oppure abbiamo come ogni domenica anche l'indirizzo mail crimini.cusanotv.gmail.com Mi raccomando fatevi come ogni domenica sentire in molti Vi ricordo anche di scrivere il vostro nome e la località se vi fa piacere dalla quale ci state seguendo Soprattutto Fabio anche un appello vorrei fare alla sintesi per agevolare i lavori della nostra redazione che è già all'opera Ha parlato di un caso particolare Gabriele Rao ma stasera dobbiamo dire una puntata particolarmente ricca articolata di casi che finiranno sotto la nostra lente di ingrandimento E allora con la regia di Ivano Di Gianvito e Alessio Tancorra andiamo a scoprire i titoli di oggi Tema centrale di questa puntata, quello che abbiamo ribattezzato come il giallo di cento celle Morte tra l'indifferenza Parliamo della morte del 25enne Alessandro Femia Ne parleremo anche nella lente di ingrandimento I tanti lati oscuri di un dramma E poi per Italia in giallo e nero il serial killer della Rivera dei Cedri Colpisce ancora Crimini nei cieli, incontri ravvicinati in cielo Quello che è il Bird Strike Questi i titoli, come avete visto tanti gli argomenti che approfondiremo Andiamo intanto a presentare gli ospiti Cominciamo con un primo capitolo con tre ospiti in studio A partire dalla parte della famiglia coinvolta nel dramma di cui parliamo all'inizio di questa puntata Possiamo intanto vedere il titolo, così ricordiamo ovviamente il nostro titolo il giallo Di cento celle, morte tra l'indifferenza Alessandro Femia Abbiamo in studio il papà di Alessandro, Anselmo Femia Buonasera e bentornato a Crimine e Criminologia Buonasera, buonasera e grazie per l'invito Ne parlammo con Anselmo Femia un anno fa circa Perché poi sta per ricorrere l'anniversario triste della morte di Alessandro Che aveva 25 anni quando il 26 marzo di due anni fa morì in questo tragico incidente nel quartiere Centocelle di Roma Ci sono stati degli sviluppi rispetto a un anno fa Tra poco li approfondiamo anche con Tiziana Ciavardini Buonasera Salve, buonasera a tutti Antropologa culturale, giornalista, compagna di viaggio del sottoscritto Per quanto riguarda la storia oscura su Radio Cusano Campus tutti i giorni O meglio, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 E poi anche un gradito ritorno, quello del giornalista Emilio Orlando Buonasera Buonasera a voi Fabio, buonasera alla redazione Peraltro aggiungo, Emilio Orlando ha seguito da vicino il caso come giornalista Ancor più da vicino lo ha seguito Tiziana Ciavardini E tra poco ne parliamo bene Arrivò a Tiziana anche una lettera anonima a proposito di quelli che sono i fatti di questa storia Che vi andiamo a raccontare, a riassumere con il servizio firmato Gabriele Rao Ma la voce è quella di Emanuele Landi e il montaggio di Claudia Di Fonso Vediamo Il 26 marzo del 2022 fu la giornata in cui venne scritto l'ultimo capitolo della vita del giovane Alessandro Femia Aveva 25 anni Alessandro, abitava nel quartiere romano di Talenti Ma in quella tristissima giornata tra le 4 e le 5 del mattino si trovava in zona Centocelle Guidava una Volkswagen Scirocco Un'automobile che gli serviva per svolgere i mille impegni della quotidianità Tra lavoro, famiglia, amici e hobby Una vettura che Alessandro Femia guidò quel 26 marzo per l'ultima volta Il giovane infatti perse i sensi perché la macchina che conduceva impattò contro un autobus a metano dell'Atac Tra via dei Castani e via dei Faggi Del suo corpo esanime, ma ancora vivo, accasciato sul sedino di guida Non si accorsero i pochi testimoni che transitavano a Centocelle a quell'ora tarda Impossibile invece fu non notare l'imponente colonna di fumo che si sollevò dall'autobus Che dopo il sinistro con la Volkswagen di Alessandro prese fuoco Fu proprio a causa dell'incendio che il 25enne perse la vita Sommerso dalle sostanze tossiche fu riuscite dal mezzo in fiamme Senza potersene accorgere, senza potersi difendere Il suo corpo carbonizzato venne rinvenuto successivamente intorno alle 7 del mattino Ancora all'interno dell'autovettura distrutta Il dato più drammatico e sconvolgente derivò dall'autopsia Se Alessandro fosse stato estratto dalla macchina prima dell'inalazione fatale Se qualcuno si fosse accorto di lui Oggi Roma non piangerebbe un suo figlio di 25 anni venuto a mancare all'appello L'indagine sul caso è stata archiviata Ma restano alcuni dettagli e aspetti ambigui Legati alla ricostruzione della notte del 26 marzo Che continuano a non convincere i familiari di Alessandro Testimonianze all'apparenza contraddittorie e segnalazioni anomale Tra cui quella che attesterebbe la presenza di un presunto secondo occupante della Volkswagen Che si sarebbe dato alla fuga dopo lo scontro con l'autobus Abbandonando Alessandro Femia al suo tragico destino Grazie a tutti Perché è sempre molto difficile Noi ci siamo conosciuti due anni fa proprio nell'imminenza di questo tragico fatto E la storia di Alessandro Femia con tutti i dubbi che ancora oggi circolano Ha sempre un po' rappresentato un tarlo Anche perché come dicevo poco prima non è una vicenda di cui si è parlato moltissimo Allora parto chiedendoti dato che è notevolissima la distanza geografica Tra dove Alessandro abitava e il luogo in cui purtroppo ha trovato la morte Rispetto a due anni fa anche rispetto all'anno scorso Quando ti ho intervistato a Filo Giallo Sono emerse delle informazioni ulteriori Che ci aiutino a ricostruire i movimenti e i perché dei movimenti di Alessandro Quella notte prima del verificarsi della tragedia, dell'incidente Alessandro, buonasera, buonasera a tutti Alessandro quel giorno stava lì sempre per... stava andando al cube Stava andando in discoteca a... credo come mi è stato detto A prendere due sue amiche Purtroppo da dove diciamo abitava lui Che era quasi... era rientrato in casa Stava a casa... da dove abitavamo noi Per arrivare a... appunto al cube Non c'era bisogno di passare per la strada di Centocella Non ce n'era bisogno assolutamente Ma purtroppo queste loro... queste sue amiche Hanno comunicato telefonicamente che Era chiuso... perché per arrivare a via... al cube Dove sta il cube bisogna passare... Un zona portonaccio E arrivi al cube Ma purtroppo quella sera stavano facendo dei lavori Anche questa fatalità... quest'altro... E gli hanno chiesto... gli hanno detto... Gli hanno consigliato di non passare per... Ma bensì passare per lo stradone Adesso ho fatto più volte quella strada Per cercare di capire com'è E niente... e lì a Centocella si trovava per questo motivo Perché per poter arrivare lì Ha dovuto passare lì per Centocella Via di Castani E per poi raggiungere la... diciamo la destinazione Dove andare a... questo è quello che noi Sappiamo... ma non c'è nient'altro di diverso E questo è la... diciamo... quello che le amiche I suoi amici... vanno poi... vanno poi... diciamo... detto Peraltro... lo abbiamo ricordato anche nel servizio La novità è che l'indagine e l'inchiesta È stata archiviata Abbiamo visto... la possiamo anche rivedere L'ordinanza in merito all'archiviazione Ma non è questa... proprio l'ordinanza del giudice È uno scroll che abbiamo... che poi possiamo mostrare Ne approfitto proprio per andare da Tiziana Ciavardini E chiedere... eccola... questa è l'ordinanza E naturalmente Tiziana Ciavardini si è interessata Di questo caso fin da subito per una serie di motivi Al di là del fatto che sei una giornalista oltre che antropologa culturale Ma anche per un problema affettivo possiamo dire Del quartiere Centocelle Quindi raccontaci poi com'è Come sei andata a trattare questa vicenda Oltretutto ricevendo anche una lettera anonima Grazie innanzitutto per l'invito E grazie Gabriele Hai fatto un servizio veramente insomma Molto commovente, molto profondo Allora io sono nata e cresciuta a Centocelle Ma vivo in un'altra zona E una mia amica mi aveva detto che Insomma in zona Centocelle era successo un incidente Io proprio quella mattina mi trovavo lì Perché stavo andando a prendere mia mamma E praticamente avevo visto che c'era... Avevano deviato la strada Addirittura i cavi dell'autobus Praticamente anche del tram erano bruciati Quindi non facevano passare nessuno E dopo è venuto fuori appunto che Questa amica che abbiamo in comune Mi ha raccontato che il figlio appunto di Anselmo Era venuto a mancare E sin da subito ci sono stati dei dubbi Perché appunto perché si trovasse lì Perché questo colpo è stato estratto poi Diciamo da questa vettura la mattina di fatto Anche se l'incidente poi è arrivato E è avvenuto alle tre e mezza Alle quattro e mezza di notte Quindi è stato tirato fuori molto prima Sono due anni che stiamo cercando di fare luce Di fare chiarezza su questo caso Ci sono tante cose che non sono state dette Ci sono tante notizie Che noi siamo sicuri Ci siano persone che sappiano Tante informazioni che siamo sicuri Al cento per cento Che magari qualcuno anche che ci sta ascoltando In questo momento sa E non ha parlato fino adesso Il fatto che sia arrivata adesso L'archiviazione non significa Che noi ci fermeremo Anzi noi continueremo ancora più forti Ad andare avanti Nella... ecco vedi Proprio adesso voi state mandando Questa ordinanza Questa istanza di archiviazione Qui ci sono dei nomi In questi nomi Tra questi nomi C'è il nome di un testimone oculare Che è stato quello che poi ha dato vita A tutto quello che è successo dopo Il fatto che Questa persona Non faccio il nome ma c'è scritto Lo potete leggere C'è lì C'è lì C'è Comincia con la F il nome Il cognome Comincia con la S il nome Il cognome con la F Non lo faccio perché Insomma l'ho anche contattato Per chiedere se voleva intervenire Se voleva darci delle informazioni Perché lui è stata una persona Che ha detto Io ho visto scendere dalla vettura Una persona con un cappuccio Il conducente Ed allontanarsi Claudicante Dalla vettura Questa notizia Ha dato poi il via A tutto quello che è successo dopo Quindi tutti quanti Hanno pensato Che la macchina fosse vuota Nessuno ci fosse dentro Sicuramente Ci sono anche altre persone Che dovevano andare lì A controllare L'autista dell'autobus I vigili che sono venuti I carabinieri La polizia Tutte le persone Però ci hanno detto Così almeno Questo è anche Quello che è stato detto Ad Anselmo Che non facevano avvicinare Perché dicevano Che sarebbe saltata Da lì a poco Devo dire che poi Dopo la possibilità E l'eventualità Che insomma scoppiasse tutto Perché comunque poi Di fronte c'era il Burger King Che poi è stato chiuso I vetri sono stati spaccati Anche all'interno Diciamo della palazzina Fino a due piani Sono arrivati comunque I fumi Insomma ci sono tantissime cose Che poi magari approfondiremo Anche più tardi Che non sono molto chiare E noi vogliamo insomma Fare chiarezza e luce Su queste situazioni Questo video che stiamo vedendo adesso Che ci sta proponendo la regia È una telecamera Che è all'interno del Burger King Giusto? Esattamente Ecco l'avete visto poi Dove si vede l'impatto C'è proprio C'è l'impatto Tra la vettura E l'autobus Ora lo stiamo mandando A rallenti Vedete poi con il cerchio È l'autobus che si avvicina È la macchina Di Alessandro Che arriva Ultata e trascinata Nel servizio Gabriele Rau Ha scritto Alessandro perde i sensi Francamente Sembra come se abbia perso Il controllo dell'auto Che potrebbe avere avuto Anche un malore Nel guidare Perché da quelle immagini Che abbiamo visto Sembra una macchina fuori controllo Questo non è apparso Non appare Assolutamente Però potrebbe essere Anche un'eventualità O una distrazione fatale Ha messo la freccia per girare Quindi Sai Un malore Non ti permette Di inserire Un malore Un attimo Di così Era pure notte Guarda La mia Tesi Ipotesi Se così possiamo dire È quella che Lui stava camminando Indubbiamente aveva superato L'incrucio Come si vede Per tre terzi Della strada Perché lì è tre carreggiate L'autobus Che ripeto Secondo Almeno dai video Io così ho riscontrato Ma non sono un tecnico Non sono una persona Che può giudicare O può dire Ci volevano terze persone La procura La procura ha pensato bene Di non Incaricare nessuno L'autobus Per quello che mi riguarda Non viene dalla corsia Non percorre la corsia Dedicata ai mezzi pubblici Ma percorre La corsia Delle Diciamo Delle vetture normali Quindi è chiaro Che Alessandro Secondo me Si è visto arrivare Questo proiettile Se così possiamo dire Anche se dicono No Camminava Perché ci stanno Dei testimoni Che ribadiscono Che l'autobus Ha fatto la fermata E andava piano Non poteva Anche il giudice Questo l'ha detto Come il PM Non poteva riprendere La velocità Quindi non poteva andare Questo però Non è stato fugato Da nessun'altra Da nessun'altra C'era la possibilità Di farlo Chiedendo Esiste Come mi ripeto sempre Un sistema VM Che controlla Monitora Gli autobus Ogni tre secondi Da lì si poteva dire Si aveva fatto la fermata La velocità E tutto quello che occorreva Proprio per fugare I dieti Guarda La colpa è totalmente Di Alessandro Non c'è un concorso di colpa Non c'è niente È tutta l'uva Perché chiaramente Si sono basati Sul fatto che lui Non ha dato la precedenza Non ha rispettato la precedenza E correva Questo è tutto Questo è stato Diciamo Almeno Sulle 400 pagine Che compongono Il fascicolo Questo Sia il PM Che il giudice Purtroppo Per un evento Sfortunato Di Alessandro Però Quello che la famiglia Chiede è proprio questo Che avrebbe Ha chiesto già da prima Questo controllo Che diceva Esattamente E anche le telecamere Poi ce ne saranno state Anche altre L'unica che testimonia Ma lì si vede poco L'abbiamo visto La telecamera Del Burger King La possiamo rivedere Mentre ne parliamo Il autobus Il autobus Nasconde Chiaramente Nel passare Copre la macchina Quindi non si vede Quello che succede Ma non c'era Come diceva prima Tiziana Cevardini Lì si è pensato Che c'era una seconda persona Ma Lì si È chiaro Che si vedeva Nell'immediato Subito Io adesso ho visionato La macchina Perché è stata dissequestrata Dopo due anni E non è possibile Che c'era un'altra persona È impossibile Perché il motore Della macchina Sta qua Arrivata Sta sul sedile Quindi Sarebbe rimasta Trappolata Non è possibile Chi ha fatto l'indagine Ma non è stata Né vista la macchina Non è stata fatta A mio avviso È stata fatta Un'indagine Se mi posso permettere Alla Garibaldina Come si dice Roma Non è stato fatto Nessuna Nessuna indagine Si sono basati Sulle Sulle Le testimonianze Di due testimoni Uno che stava Sull'autobus Addetta Diciamo Di questo testimone Di lui stesso E uno che ha visto Tutta la scena Che poi è ritrattato Chiaramente Quando all'interno Si sono accorti Che c'era Il corpo Di una persona In questo caso Di mio figlio Alessandro Ha ritrattato subito Quindi Questa è stata Che ha indotto Tutti gli inquirenti Chi Doveva indagare Così A una leggerezza Senza nessun problema Andare avanti Quindi errori In fase di indagine Fin dall'inizio Questa è stata La tragedia Allora rispetto a queste parole Di Anselmo Femi E anche rispetto a quello Che ha detto prima Tiziana Ciavardini Che ci tengo a ringraziare Per i complimenti Sul servizio Vorrei però ascoltare Anche il punto di vista Di Emilio Orlando Mi pare di poter Dire che ancora Non disponiamo Di una quantificazione Esatta Di quante persone Abbiano assistito A questa tragica Scena Secondo te Emilio Laddove Come prima Auspicava Giustamente Tiziana Più persone Dovessero esporsi Dovessero raccontare Quello che hanno Visto quella notte C'è la possibilità Che insomma Ci sia un passo indietro Rispetto Alla richiesta Della procura Di archiviazione Che è stata Accolta dal G Beh A una richiesta Di archiviazione Dove poi c'è L'ordinanza Quindi il decreto Di archiviazione Del giudice Per le indagini Preliminari Ci si può Porre fornendo Diciamo degli elementi Nuovi Elementi nuovi Che alla luce Di quella tragedia In particolare Potrebbero comunque Emergere Perché sono due Gli ingredienti Diciamo che Compongono Questa tragedia Tra l'altro Una delle tante Che ha Purtroppo Costellato Il 2022 E il 2023 No Ricordiamolo Sono stati Gli anni Che nella capitale Ci sono stati Più incidenti Immortali Abbiamo chiuso Noi l'hanno Appena Diciamo l'hanno Chiuso Tre mesi fa Il 2023 Quasi con 200 morti Quindi ecco Questi sono numeri Importanti Dati allarmanti Rispetto ai quali Si può fare una riflessione Anche alla luce Della tragedia Che ha visto Come vittima Alessandro Femia Rispetto al fatto Che ruota Su due Cardini Si poggia su due Cardini Quello come abbiamo Detto del giallo Infatti Non c'è titolo Più azzeccato Di questo Che avete Individuato Voi E quello Dell'indifferenza Quando ci sono Questi due Componenti L'uno Rafforza Diciamo L'altro Quindi ecco È stata una modalità Anche diciamo Abbastanza originale Di domare le fiamme Quella notte Perché generalmente Quando c'è un veicolo In fiamme La prima cosa che si fa È quella di infrangere i vetri Perché Quando si rompono i vetri Si evita l'esplosione No? Quella è una tecnica Che si utilizza Per spegnere E poi vedremo un video Australiano Su questo È proprio la tecnica Che dici tu Si apre il serbatorio Del carburante Per evitare che esploda E si rompono i vetri Per evitare che questi esplodano Io faccio da Quasi 27 anni Questo lavoro È assistito a tanti Spegnimenti Di auto in fiamme Quindi Sono abbastanza Sono abbastanza esperto E l'altro invece È quello del giallo Come abbiamo detto Questo elemento Suona quasi Diciamo Costruito E spiego perché Costruito Perché le responsabilità In cui l'incidente Sono tante Allora c'era il fondo Della strada Che era reso Abbastanza sdrucciolevole Un po' per Le condizioni stradali E poi quella parte lì Di Centocelle Risente di alcuni alberi Ecco che li possiamo vedere Nelle foto Che stanno andando adesso In sovraimpressione Alla Appunto Alla mia destra E Ci sono lì Dei binari del tram Come potete vedere Che fanno perdere Aderenza alle macchine No? Quindi ecco Lo sbandamento successivo Al punto Diciamo precedente Poi al punto di impatto Potrebbe essere questo Ecco questa foto qui Per esempio Cosa mostra? Mostra che Ci si accorge Della presenza Di un cadavere Del cadavere Del povero Alessandro All'interno Della Volkswagen Scirocco Soltanto Evidentemente Molto tempo dopo Rispetto a quando C'è chi dice Alle sette Ecco diciamo Questi elementi Quanto meno Una ulteriore Ipotesi di reato Che è quella Dell'omissione di soccorso Andava secondo me Ipotizzata Questo alla luce Anche di ulteriori Accertamenti Che si sarebbero Potuti fare poi Successivamente Per stabilire Quelle che sono Eventuali Se ci sono Diciamo responsabilità Di chi può aver Da un lato Provocato l'incidente E dall'altro Non si è accorto Appunto Che all'interno Della macchina C'era C'era il povero Alessandro Anche perché Adesso mi dispiace C'è il papà Qui in studio Quindi sottoporlo A questo ricordo Ma una volta Mi è capitato Di vedere in diretta Proprio due persone Diciamo Morire bruciate Dentro una macchina Ed è Una Parte una Morte quasi Istantanea Diciamo No Quindi ecco Si rimane Intrappolati lì dentro E rompere il vetro Di una macchina Quando sei lì dentro È impossibile Vedere di una macchina Una resistenza Molto forte Quindi ecco Questo mi lascia ipotizzare Che probabilmente Lo spegnimento È stato fatto Prima dalle persone Che sono intervenute lì Dallo stesso autista Che vedo Che si muoveva all'intorno Ma che poi ecco Come vedete Nessuno si è preoccupato Di vedere all'interno Perché distratto Evidentemente E condizionato Dal fatto Che qualcuno Aveva spiegato All'interno Della macchina C'era uno C'era una persona Che è fuggita via Ma forse un minimo Di attenzione in più Avrebbero dovuto Sicuramente utilizzarla Sia i soccorritori Che le persone Che sono intervenute In prima battuta Peraltro poi in apertura Ora siamo in chiusura Di questo primo capitolo In apertura di secondo capitolo Vi faremo vedere Uno dei video Che furono girati Dalle persone Che erano lì Sul posto Che comunque Ripresero Quello che fu Dopo Quello che fu Il dopo Incidente Volevo chiudere il capitolo Tornando da Tiziana Ciavardini Prima abbiamo visto Una foto Proprio quando ho chiamato L'ordinanza E' apparsa Un'altra cosa Che era sbagliata E che è stata una cosa Molto bella Che se non ricordo male Hai fatto proprio tu Alessandro Diciamo mettendola In prima persona Come se fosse Un grido d'aiuto Di Alessandro Questa è una cosa Bellissima Che hai fatto E poi però Anche la lettera anonima Arrivata a casa tua Che non è a centocelle Poi diciamo Anche questo è un mistero Ci sono troppi misteri Su questa vicenda Che partono Dalla sera precedente Perché lui era andato A cena con degli amici Poi alle tre e mezza Si lascia con un amico Non si sa per quale motivo Alessandro scende dalla macchina Va a casa Prende Preleva dei soldi Prende la sua macchina Che non funzionava neanche tanto bene E va a centocelle Allora Noi insomma Facciamo questo lavoro Tutti i giorni Quindi quante volte Ci sono capitati Dei casi In cui le indagini Già dall'inizio Sono state fatte male Questo è uno di quei casi Spessissimo Questo è uno di quei casi E' uno di quei casi In cui le indagini Dal momento in cui Ancora Alessandro Era all'interno della vettura Non sono state fatte Sono state fatte male Ancora ad oggi Non abbiamo Il tabulato dei cellulari Quindi noi non sappiamo Che celle Ha agganciato Il telefono di Alessandro Perché se dovesse mai Venire fuori Che qualcuno Degli amici di Alessandro Fosse proprio In zona centocelle Quella sera Dico ipoteticamente Sarebbe un qualcosa in più Noi sappiamo che Alessandro Aveva una fidanzata Con quella sera Aveva litigato C'è anche da dire un'altra cosa E insomma Mi permetto di dirlo oggi Questa fidanzata Prima ancora Che la famiglia sapesse Che Alessandro Era deceduto Era già andata Spontaneamente A rilasciare Una sua dichiarazione Dicendo che appunto Aveva Alessandro Aveva fatto Uso di alcol E quindi Per questo era uno dei motivi Per cui loro litigavano spesso Cosa che A mio avviso E sono sicura Anche insomma Da parte dei nostri telespettatori Non potranno dire di no È stata una cosa Che ha accentuato Anche il fatto Di aver chiuso Questa indagine Cioè È stato comunque Un qualcosa Che è andato Ad influire negativamente Su questa vicenda Emilio Orlando Vuole aggiungere una cosa Però dobbiamo dare La linea alla regia Quindi ripartiremo Proprio da Quello che vuole Aggiungere Il collega Emilio Orlando Restate con noi Tra poco ripartiamo Vi facciamo vedere Uno dei video Amatoriali Possiamo definire così Realizzati Quella tragica notte Del 26 marzo Del 2022 A tra poco A tra poco E ben ritrovati Secondo capitolo Di crimini e criminologia Continuiamo a parlare Del giallo di cento celle Rivediamo il titolo Che abbiamo scelto Per questa Prima parte Di puntata Il giallo di cento celle Morte tra l'indifferenza La morte di Alessandro Femia Morto all'età di 25 anni Il 26 marzo del 2022 Dopo un incidente Proprio nel quartiere Di cento celle a Roma Ma ricordiamo Non fu l'impatto A ucciderlo Né il rogo Che ne scaturì Furono i fumi Che inalò Mentre giaceva Sul sedile dell'auto Che un attimo prima Aveva guidato Senza che nessuno Facesse poi In quei momenti Qualcosa Realmente Per aiutarlo E ne abbiamo già parlato Nella prima parte Di trasmissione Abbiamo evidenziato I tanti lati oscuri Tra poco ne evidenzieremo Altri però Ero in debito Con Emilio Orlando Che voleva aggiungere O integrare Quello che aveva appena detto Diziano Ciavardini O aggiungere nuovi elementi Emilia Noi quando ci occupammo Di questa vicenda A marzo del 2022 Quello che La mattina Quando ci regammo Lì sul posto Venne fuori E che L'Avoswagen Scirocco Fosse in realtà Inseguita Forse da un'altra macchina Questa fu la prima ipotesi Dalla quale partimmo tutti E iniziamo già a dire Che forse era Un incidente stradale Dovuto a Qualcosa Che era successo Forse precedentemente Perché sembra appunto Un'auto fuori controllo Da quel video Del Burger King Si vede Lo rivediamo Un scontro atipico L'ipotesi poi Tramontò Successivamente E ci si appunto Fermò sul fatto Se c'era stata o meno L'omissione di soccorso Eccetera Però tutto quello Che poteva essere Il pregresso O la vera causa Di quello schianto mortale Non si è approfondita Ma ritengo anche Che negli atti di indagine Manchino i tabulati telefonici Ad esempio Perché Quando si ipotizza L'omicidio colposo In questo caso L'omicidio stradale Perché questo Di omicidio stradale Si tratta Non ci si sofferma A vedere Diciamo Le attività Fatte dalla vittima O i contatti Avuti dalla vittima Ci si ferma soltanto Sulla dinamica Dell'incidente stradale Quindi se ci sono state violazioni Da parte dell'uno Dell'altro veicolo Rispetto al codice della strada Ma Diciamo Questo non aiuta A ricostruire Ma Ripeto Questo Che ha visto come vittima Alessandro Femia È il terzo Il quarto incidente Avvenuto nella capitale Avvolto nel mistero Ce n'è stato un altro Sul grande raccordo anulare Dove è stata investita Una donna E anche lì Si cercò In maniera Più o meno Poi Diciamo Risoluta Di stabilire Se c'era stata una causa Rispetto a qualcuno Che lo inseguiva Ricordiamolo Che Questo non voglio Non voglio Fare nessuna teoria Fantascientifica Però esisteva Per esempio Ai tempi Della Guerra Fredda Esisteva la cosiddetta Manovra Gladio Così si chiamava Che si utilizzava Per voler Appunto Per uccidere Magari un qualcuno Che era la guida Cioè si faceva Un inseguimento Molto serrato Ci si attaccava La macchina E si costringeva Il veicolo Che precedeva Per esempio Una manovra azzardata Una manovra pericolosa Che spesso portava Quasi sempre Portava alla morte Se non ricordo male Per Rino Gaetano Si ipotizzò anche Una questione Un complotto Una situazione del genere E quella manovra Gladio Riferimento ovviamente A quello che era Stay behind A proposito Delle forze Della Nato In Italia Che avrebbero dovuto Frenare un'invasione Sovietica Gabriele Rau Io vorrei tornare Da Anselmo Femia Sfruttando Un messaggio Che ci è arrivato Da un nostro ascoltatore Che ci segue da Napoli E che salutiamo E ringraziamo Dunque prima si è parlato Di quanto implausibile A tuo giudizio Sia l'idea Che qualcuno Quella notte Quella mattina Insomma occupasse Il sedile del passeggero Davanti Dell'automobile Condotta da Alessandro Però questo nostro ascoltatore Che credo si intenda Parecchio di automobile Perché fa un discorso Piuttosto lungo Anche sul funzionamento Delle luci d'emergenza Sull'airbag Adesso non lo leggo tutto Perché consumerei Troppo tempo Però insomma La domanda che lui pone Che io mi permetto Di rigirare a te Anselmo E stando insomma Le condizioni In cui è stata rinvenuta La macchina In cui è stata ridotta La Volkswagen A tuo giudizio A tuo giudizio È possibile che invece Qualcuno fosse seduto Dietro Quindi nei sedili Posteriori E che questo Chiaramente siamo ancora Nel reame Delle ipotesi pure Ma che questa eventuale Presunta Testimonianza Che parla di una persona Che si allontana Dalla macchina Potrebbe aver visto Qualcuno allontanarsi Non dalla parte davanti Dell'automobile Ma dalla parte Diciamo posteriore Ecco Beh questo non è possibile Non è possibile Per due motivi Il primo motivo È perché La Scirocco Ha due portiere Che praticamente Stanno davanti Da una parte C'è l'autista E c'è il lato passeggero Quindi non è possibile Che esce Da dove usciva Non è possibile Comunque avrebbe dovuto Passare davanti Davanti Buntare Sulla persona Scavalcare La persona Di Alessandro Il corpo di Alessandro E uscire Ma poi Non penso Che chi Fa questo tipo Di attività E passa da dietro Si preoccupa Si preoccupa A chiudere lo sportello E praticamente È impossibile Quindi Così abbiamo risposto A questo dubbio Di un nostro Telespettatore Questo è quanto Perché poi È veramente Come diciamo Nel titolo Come avvalora Il nostro titolo Emilio Orlando È un giallo Al di là della morte Tra le indifferenze È un giallo E giustamente I telespettatori Si fanno delle domande Ma andiamo ad aprire Una delle nostre rubriche In pugno di nuovo La lente di ingrandimento Perché è proprio questo L'appuntamento E vediamo anche il titolo Che abbiamo scelto Per lente Di ingrandimento Restiamo sempre lì Alessandro Femi Ai tanti lati oscuri Di un dramma Diamo la buona serata Alla dottoressa Barbara Fabbroni Buonasera Bentornata Crimine e criminologia Salve Bentrovata Buonasera a voi E buonasera Anche ai vostri ospiti Psicoterapeuta Giornalista E criminologa Le chiedo subito Da lente di ingrandimento Che è il titolo Della rubrica E prendendo spunto Anche dal titolo Lei che ha avuto modo Di studiare il caso Per questa puntata Di crimine e criminologia Che idea si è fatta E ovviamente Sono veramente tanti I lati oscuri Dottoressa Beh i lati oscuri Ce ne sono tanti Ma la cosa più agghiacciante E che veramente pone Tanti interrogativi È l'indifferenza Su cui Alessandro Poi alla fine Purtroppo è morto Anche perché L'autopsia Comunque Correggetemi se sbaglio Ha dato uno spazio Di 10-15 minuti Su cui Il giovane Poteva essere salvato Ma purtroppo Poi è morto Per l'esalazione Di tutti questi fumi Cioè noi oggi siamo di fronte Che anche in piena notte Se accade qualcosa Siamo capaci Di fare un video Per poter immortalare La situazione E nessuno Ha pensato Appunto Di portare aiuto A questo giovane Anche soltanto Spaccando un finestrino Aprendo una portiera Nei primissimi minuti Ma si è pensato Ad altro Cioè Erano veramente distratti Ma al di là di tutto questo Comunque L'insieme di situazioni Che si è Tramata In tessuta È veramente Molto significativa E molto densa Di domande E di punti Di lati Molto oscuri Io ho ricolto La bellissima lettera Scritta Appunto In ricorrenza A un anno Dalla morte Di Alessandro In cui lui parlava In prima persona E chiedeva Perché questo non è stato fatto Perché nessuno mi ha aiutato Perché in fondo Sono stato così tanto Rapito dalla morte No? Per cui ecco A tutto questo Poi si aggangiano Tutte una serie di enigmi Vero Hanno visto questa persona Con il cappuccio Allontanarsi Ma perché poi Alla fine Chi era presente Non ha guardato Se c'era altro Non si è tesa una mano A questo giovane Che è andato Purtroppo a sbattere Con questo autobus E purtroppo Si sa bene Che gli autobus A metano Sono a volte Fragili Nella Nella meccanicità Proprio del contenitore Del metano Che ha dato il via Poi a questa scintilla Mortale Con questo rogo Incredibile Abbiamo visto Quell'appello urgente No Tiziana Ricordava La dottoressa Fabbroni Sì perché noi Abbiamo messo Diciamo sia la lettera Che anche appunto L'appello urgente Esatto con la lettera Chiedendo ai cittadini Di via dei Castani Che insomma È il luogo in cui È successo questo incidente Ma anche di tutta Centocella Abbiamo fatto anche Il volantinaggio Per cercare di Capire un po' di più Di questa cosa E devo dire una cosa Che insomma A due anni di distanza Da quando è successo Sembra sempre più un giallo Cioè se prima sembrava Solo un incidente Un incidente stradale Adesso Rivedendo queste immagini così Sembra quasi che qualcuno Abbia voluto provocare La morte di quel ragazzo Io azzarderei anche A un omicidio Quasi 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 Perché qualcosa Potrebbe esserci dietro È per questo che vanno fatte Delle indagini Non così come le ha fatte La procura Ma vanno fatte delle indagini Attraverso un investigatore privato Secondo me anche la famiglia Avrebbe dovuto fare Avrebbe dovuto mettere Non solamente l'avvocato Comunque prendere Delle persone Che magari andavano Comunque ad intervistare Ognuno degli amici La fidanzata Tutte le persone Che potevano essere coinvolte Nella vita di Alessandro Per vedere Se effettivamente Era tutto limpido Così come ci è stato detto Se magari c'era qualche cosa Che non è stata detta Allora volevo far vedere Anche i telespettatori Lo avete visto già In alcune immagini Che in gergo tecnico Si chiamano di copertura Ma andiamo anche a sentire La voce di chi girò Alcuni video Quella notte drammatica Del 26 marzo Del 2022 Vediamo Sono le 5 del mattino Le 5 del mattino A Via dei Castani Un autobus E' andato a finire Contro il Burger King E ha preso fuoco Ha preso una macchina Ha giaccato Tutte le macchine E l'ha parcheggiata Guarda Guarda L'ha pestata tutte Incredibile Ho sentito un botto Incredibile Mi ha svegliato Sono i 5 e qualcosa 5 e mezza Aspetta Incredibile Incredibile Ha staccato i cavi Del tram Guarda Ecco Dovrebbe essere scontrato Con qua la macchina Con qua la Golf Allucinante Allucinante Addosto davanti Al Burger King Incredibile 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 Questo dunque È un video anonimo Girato da chi Lo avete sentito È stato svegliato Dal botto terribile Al quartiere Centrocelle Di Roma Quel 26 marzo Del 2022 Quella notte Gabriele Rao Io Tiziana Vorrei tornare da te E vorrei soffermarmi Ancora un attimo Sulla lettera anonima Che tu hai ricevuto Perché per me Ha un significato importante Che deriva innanzitutto Dal fatto che tu Non l'hai ricevuta Nell'immediato L'hai ricevuta Dopo un po' di tempo Questo mi lascerebbe Pensare che la persona Che te l'ha spedita Non solo abbia Voluto approfondire Abbia avuto interesse Ad approfondire La vicenda di per sé Ma abbia avuto modo Come dire Di scoprire Di apprezzare anche Il tuo personale Diciamo Coinvolgimento Interesse Nei confronti Di questa vicenda Tu Tiziana Insomma Sei giornalista Da molti anni Hai una notevolissima Esperienza Ecco la tua esperienza Che cosa ti suggerisce Anche a livello Se vogliamo usare Questa parola Di intuito Rispetto alle informazioni Proprio al messaggio Contenuto in questa lettera Che io ho letto E che effettivamente Presenta dei passaggi Di profondissima inquietudine Che mi hanno trasmesso Profondissima inquietudine Guarda La inquietudine più grande È stata Averla ricevuta Nella cassetta Della posta di casa mia Perché insomma È un indirizzo privato Per cui Non riesco a capire Chi possa averlo fatto Con Franco Bollo Quindi non posata Quindi Anche questo Insomma è molto strano Guarda La lettera accusava Un po' Diciamo L'autista Dell'autobus Perché In teoria Degli occhiali Quindi avrebbe passato Le prove Insomma Sono delle cose Che noi abbiamo dato Perché io ovviamente Appena ho ricevuto la lettera Ho parlato subito Con Emilio Ho chiamato subito Emilio Perché lui è un po' Sì sì esatto Io ho chiamato subito Emilio E mi ha detto La devi andare subito A consegnarla Devi subito Devi andare a farla Protocollare Io sono andata Dai vigili Proprio al centro Alla stazione dei vigili Ed è stata protocollata Poi di fatto Questa lettera Non è stata presa Comunque in considerazione Da parte della procura Quello che c'è scritto dentro Praticamente insomma Noi non sappiamo Ovviamente è anonima Non sappiamo Chi abbia potuto scriverla Accusava un po' Quello che era successo Quella sera E anche lì c'è scritto Non facevano avvicinare Non facevano avvicinare A questa macchina Rivedendo Come stavo dicendo prima Tutto quello che avete fatto Vedere voi Rimostrando insomma Queste immagini Effettivamente Tanti sono i dubbi Perché questo non è Un semplice incidente stradale Anche perché lì Abbiamo visto C'era tanta gente Anche il signore Che mi hanno svegliato Come mai Nessuno è venuto in mente Di dire Oh ma avete guardato Dentro la macchina E' uscito uno col cappuccio Sì Esatto è molto strano Un animale dentro Un cane da salvare Ma perché poi La persona che ha dato L'indicazione Un ragazzo E' uscito con il cappuccio nero Cioè poteva dire Che ero scesa io Poteva dire Che era scesa un'altra persona Con delle sembianze diverse Perché è proprio Così simile Ad Alessandro Che comunque aveva Anche lui Un maglione Sappiamo nero Con il cappuccio Cioè perché mettere in giro Questa cosa Per quale motivo Mettere in giro Una cosa del genere Avendo poi Sulla coscienza Per tutta la vita La morte di un ragazzo Perché io immagino Che chi ha dato questa idea Chi insomma Ha messo in giro Questa notizia Mi auguro Che per tutta la vita Insomma Sconti la pena Ovviamente Non Come dovrebbe Scontarla Diciamo perché La procura Abbiamo visto Ha archiviato Ma insomma La coscienza Credo non ce l'abbia Proprio pulita Abbiamo visto Abbiamo visto una foto Con tanto di freccia Che rende l'idea La possiamo rivedere Quella foto Esatto Si vede una sagoma Nitidamente si vede Che c'è una persona Esatto Considera che questa Fotografia È un frame Di un video Che è stato Girato da un Balcone Quindi voi pensate Dal balcone Si riusciva Allargando A vedere Che c'era una sagoma Com'è possibile Che chi era intorno Alla macchina Non ha visto Che c'era una sagoma Non vedete Che c'è una parte nera E poi C'è il bianco Che è la parte dietro Appunto dell'autobus Ecco L'abbiamo fatta vedere Com'è possibile Che questa gente lì Non ha visto Che dentro Non è andato lì A guardare Che ci fosse Loro hanno detto Scusami Fabio Insomma se mi prendo Un po' più di tempo Che hanno trovato Appunto il corpo Di Alessandro Riverso su Il sedile Diciamo Del Accanto No quindi non quello Esatto Dall'autopasseggero Ma questo è successo dopo Perché invece L'autopsia ci dice Che i piedi Si sono addirittura Saldati Con i pedali Del conducente Esatto Quindi lui stava lì Dopo probabilmente Quando hanno cominciato Con gli idranti Quando poi si sono spaccati Allora lì È cambiato tutto Ma il ragazzo era lì Ed è impossibile Quindi lì C'è il Diciamo il clou Di tutta la vicenda È lì Perché nessuno ha guardato Fondamentalmente Volevo chiedere Ad Anselmo Femià Inchiesta Archiviata Ma ovviamente Voi non vi arrendete Quindi Quali sono i prossimi passi Assolutamente Noi i prossimi passi Speriamo Io mi auguro Spero che qualcuno Che stava lì C'è tanta gente Che sa Come sta andando I fatti C'è C'è gente Che stava dietro Con la macchina Dietro l'autobus Che ha visto Perfettamente L'impatto C'è un'altra macchina Che si vede dai video Che adesso voi Non avete mandato Non so Che praticamente Sta dietro la macchina D'Alessandro E gira Se vedono i fari Che gira verso Un'attività Che sta sul lato destro Sulla strada Lato strada Che percorreva Alessandro Chiaramente Noi Non ci arrendiamo Così Io Mia moglie I miei I miei figli Non ci possiamo arrendere Ma Siamo in attesa Speriamo Che qualche altra Persona Possa dire La verità Ci dà un minimo Un indizio Su come Realmente Sono sviluppati I fatti Poi Come diceva Appunto Emilio Lì Andavano prese Le telecamere Ma non da parte nostra Io ci sono andato Ma non mi davano niente Non ci davano niente La procura O chi faceva la indagina Doveva prendere Le immagini delle telecamere Non solo quella del Burger King Ristretta In maniera proprio strettissima Ma anche quelle prima Ce ne sono tante Della zona Tantissime Tanti rinnozzi Tanti rinnozzi Tanti rinnozzi Abbiamo invitato Il mio avvocato Ha invitato più volte La procura A chiedere A richiedere Però purtroppo Questo non è stato fatto Ritornando un attimino Rubo un po' di spazio Sui video Quei video che noi vediamo Chi me l'ha dati E perché Praticamente A me Ai miei parenti Insomma Avveniva questo Dai balconi Quindi è chiaro Che A me hanno detto Dice Ma noi non ci siamo Minimamente preoccupato Perché la procura Questo Diceva Si potevano preoccupare Ad andare lì Diceva A parte noi da sopra Non ci potiamo preoccupare Perché stando lì Attorno alla macchina Delle persone Noi pensavamo che Dentro non c'era più nessuno In qualche modo Era stato tirato fuori Aiutato Uscito fuori dalla macchina Per fortuna i video Poi Un'altra cosa un po' particolare Non facevano avvicinare Le persone alla macchina Lì c'erano tre persone attaccate Come facevi? Perché c'era la paura Che esplodesse Perché l'audobus a metà Però nel frattempo Emilia c'era gente Sui balconi a facciata Quindi perché non fare evacuare Da parte delle forze dell'ordine Anche quelle persone Che stavano sui balconi a facciata Quindi c'è qualche cosa Di oscuro di più Non è forse Come diceva Tiziano È un omicidio È un omicidio vero e proprio Questo Non so per quale motivo Chiaro manca il momento Mancano tante cose Poi L'ultima cosa Poi mi taccio È questa È che Non so se l'ha detto Il testimone oculare Che uscì Perché lì Dalle 400 pagine Che compongono Il fascicolo Io ho capito Che chi ha detto Che era scappato Dall'auto La persona È l'autista Non il testimone oculare Il testimone oculare L'ha fatta sua Questa sua Ha fatto sua Diceva sì sì Ho visto per primo Ho visto tutto quanto Ho visto tutto Poi prima di lasciarci Mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori Un po' un ricordo anche sintetico Di ciò che il povero Alessandro È stato In vita Ma Noi ovviamente ci auguriamo Che piena chiarezza Venga fatta Insomma Anche Nel nostro piccolo La speranza La mobilitazione È assoluta Ma A prescindere Diciamo Dalla specificità E dal dramma Di questo caso Emilio In apertura Parlavamo Un po' Dell'emergenza Dell'emergenza Della morte Su strada E in questo caso Forse ci troviamo di fronte A un'emergenza Nell'emergenza Perché ricordo Ad esempio Fino a un po' di tempo fa Nella capitale Si parlava Di questi autobus Che prendono fuoco Che generano Disastri Ci sono due inchieste Una delle quali È ancora aperta Della procura La cosiddetta Flambus Flambus Esatto Poi in questo caso C'è stato un impatto A volte è avvenuto Anche in maniera Diciamo gratuita Però dalle immagini Che abbiamo visto Scorrere in sovrimpressione Mentre Occupavamo del caso Abbiamo visto come L'autobus In realtà Probabilmente Aveva perso Già il controllo Prima Perché Quel tamponamento A catena Che c'è stato Sulle macchine Del marciapiede Non è laterale Ma è centrale Essendo centrale L'autobus Era già Probabilmente Era anche l'autista Che aveva perso Il controllo Dell'autobus Prima dell'impatto Prima dell'impatto Perché rispetto Al punto dell'impatto Il campo del sinistro È molto più ampio Come potete vedere Ma Il tamponamento È centrale Rispetto alla prima macchina Che si trova davanti Alla cabina di guida Dell'autobus Quindi questo ci dice Che forse Qualcosa già Nell'autista In quel momento Forse non Andava Ma l'autista Rimane sempre indagato Per Comunque Per omicidio stradale Quindi È archivato Una parte Dell'indagine Ma Quell'indagine Rimane comunque aperta L'autista Le risponderà Comunque Volevo adesso Mostrare Sono immagini Diciamo Molto forti Però poi C'è il lieto fine In questo caso Siamo in Australia E Parliamo Del 2023 Quelle Che sono immagini Che sono state diffuse Dalla Western Australia Police Force Tra poco Vi facciamo Ebbene Possiamo vederle Perché si sente Anche nell'audio Mostrano la scena Di un incidente Sulla Southwestern Highway Dopo che un veicolo A rimorchio Si è schiantato Prendendo fuoco Le forze dell'ordine Locali Intervengono Per estrarre Il conducente Delle lamiere Con la tecnica Che prima No Emilio Quella che ricordavi tu No Possiamo continuare L'espressione del veicolo Si evita appunto Evitando l'accumulo Di gas All'interno Qui si rompe il vetro E si apre Il serbatorio Del carburante Quelle sono Le prime due accortezze Che genere Si utilizzano Quando si interviene Viceversa Quando il fuoco È interno Alla macchina Si evita di rompere Il vetro Perché l'ossigeno Potrebbe alimentare L'incendio E quindi renderne Più difficile L'opera di spegnimento E si fa sì Non rompendo il vetro Che l'incendio Invece sconfoghi Dall'interno Ma non era quello il caso Di Alessandro Perché le fiamme Venivano dall'esterno Cioè le lingue di fuoco Che hanno avvolto la macchina Si erano sviluppate Dalla vampata Diciamo di metano Che fuoriusciva Dal serbatoio Dell'autobus E allora Direi di andare A questo punto Di tornare Anzi Dalla dottoressa Fabroni Dicevamo Insomma questa è una vicenda Quella invece relativa Proprio nello specifico Ad Alessandro Femia Che ci parla Che ci racconta Ancora una volta Della indifferenza Ed è un po' Un tema Questo dottoressa Che mi sembra trasversale Rispetto a moltissime vicende Che abbiamo Che abbiamo Affrontato Ecco da questo punto di vista Quali possibili antidoti Le chiedo Certo mi rendo conto Che il tema è bastissimo E non basterebbero Otto edizioni Però insomma Forse ci sarebbe Anche un po' Di bisogno Di intervenire A livello di educazione civica Di sensibilizzare All'emergenza Perché si pensa sempre Che le emergenze Siano le emergenze Di altri Però delle volte Ci si inciampa Beh guardi Di bisogno Ce ne sono veramente Tanti E come ha detto lei Potremmo parlarne Veramente Per otto puntate Purtroppo Quello che manca È proprio La sensibilizzazione Tra l'altro Mentre stavate parlando E scorrevano Anche le immagini Della macchina Ho fatto una riflessione Hanno visto uscire Una persona Che poi aveva Il cappuccio Si è allontanata Ma mi chiedo Una persona Che dopo un impatto Del genere Esce dalla sua macchina Ma ha l'accortezza Di richiudere La portiera Della macchina In maniera perfetta Ecco Anche questo Perché non è emerso Per quale motivo Cioè Ci sono Il problema In tutte queste situazioni Che viviamo spesso C'è soprattutto Tanta indifferenza Cioè Soprattutto C'è anche La modalità Di fare le indagini Con grande superficialità Si danno degli scontati E soprattutto Ci si innamora Sempre Di una tese E si porta avanti Quella E scordandoci Poi di tutto Quello che è Il corollario Di una vicenda Ma soprattutto Di quelle che sono Le persone Io credo Che non manca Soltanto un'educazione Manca soltanto Anche a volte La capacità Di prendere A 360 gradi Un evento E sviscerarlo Fino all'ultimo Cioè Cercare di capire Veramente Ogni nesso Che può condurre A trovare Una spiegazione Che sia Una spiegazione Non soltanto Eusa Oriente Ma anche Una spiegazione Sufficiente A suffragio Di quello Che è accaduto Perché altrimenti Poi ci ritroviamo Come in questa situazione A doversi Arrampicare Sugli specchi Per portare Giustizia Alla morte Di un ragazzo Che molto probabilmente L'ipotesi Che sia accaduto Qualcosa Qualcosa È successo Sicuramente Una parte Di responsabilità Ossia Quella che Eventualmente Potrebbe aver avuto L'autista Del mezzo Si può Acclarare Ma rispetto Diciamo Alla dinamica Con la quale È avvenuto L'incidente Quanto riguarda L'omissione Di soccorso Se non si Ricostruisce Almeno Una parte Precedente Rispetto a quello Che è accaduto Non fare Delle ipotesi Allo stato Attuale Senza avere Quegli elementi Di una telecamera Che dimostri Che prima C'era stato Un inseguimento O che L'autobus Addirittura Qualche minuto Prima Potrebbe aver Perso il controllo E sottolineo Il potrebbe Quindi utilizzo Il condizionale Ecco Questo potrebbe In qualche modo Riscrivere La dinamica Legata A quella vicenda Ma non toglierebbe Nulla la gravità Dell'indifferenza Che c'è stata Non toglierebbe Nulla la superficialità Con la quale Sono state fatte Diciamo Le indagini Successive Ai rilievi Perché i rilievi Stradali Sono stati fatti Bene Mi pare Di aver Capito Ma tutta La dinamica Ricostruttiva A mio avviso Andrebbe Rivista E andrebbe Rivalutata Alla luce Di quelle Che possono essere Appunto Le dinamiche Anche diciamo Alla luce Di un'autopsia Psicologica Diciamo così Fatta Su Alessandro Che potrebbe Appunto Spiegare Qual era Il suo Stato d'animo In quei giorni Quali erano I rapporti In quei giorni E magari Se in quei giorni Aveva confidato A qualcuno Di temere qualcosa Dobbiamo chiudere Però il tempo Con Tiziano Ciavardini Ricordando Che all'epoca E ancora oggi Sul fatto quotidiano Sul blog Del fatto quotidiano Ti occupasti Di questa storia E continui ad occupartene Ora Te ne occupi Anche per La storia oscura Su Radio Cusano Campus Domattina ci sarà uno speciale Lo possiamo lanciare Su Jack lo Squartatore Il nostro speciale Signal Killer Quindi è una puntata Da non perdere Però ecco Dieci secondi Per dare speranze Alla famiglia Allora Io sono molto d'accordo Con quello che ha detto La dottoressa Barbara Fabroni Che ringrazio Sono d'accordo anche Con quello che ha detto Emilio Secondo me Qui va rivista Dall'inizio Tutta la vicenda Ci siamo occupati Per due anni Abbiamo focalizzato Su un qualcosa Che era sbagliato Comunque non era La parte centrale Di tutta questa vicenda Ci siamo focalizzati Sull'omissione di soccorso Secondo me Non dobbiamo andare A guardare lì Ma dobbiamo guardare Come ha detto Emilio Orlando I precedenti Tutto quello che era successo Prima quella sera Nei giorni precedenti Se veramente Aveva confidato a qualcuno Questi tabulati Se quella notte Lui ha parlato con qualcuno Se era andato a Centocelle Perché doveva incontrarsi Con qualcuno o qualcuna Tutto può essere A noi serve quello Quando noi faremo chiarezza Su questo Allora poi possiamo andare avanti Noi non Il tempo ce l'abbiamo Ormai Alessandro Non c'è più Ma la verità La dobbiamo trovare Quindi noi andremo avanti Lo stesso Insomma chi vuole Può comunque sempre contattarmi Noi abbiamo dato anche oggi Il numero della redazione Proprio perché Chi vuole Può mandarci messaggi Mi avete contattato Insomma portando Una lettera Neanche lei qualche numero Passano così Passano così Volteremo pagina La dottoressa Fabbroni Rimane in collegamento Perché da lente di ingrandimento Curerà stasera anche Italia In giallo e nero Insieme a una gradita ospite Del settimanale giallo Per parlare del serial killer Abbiamo parlato di Jack Eccolo squartatore Tra poco parleremo Del serial killer Della riviera dei Cedri Che è tornato a colpire Dopo essere uscito dal carcere Restate con noi Grazie a tutti